E' tutto il giorno che mi gira questa cosa in testa, pensando al Vangelo e al parallelo di Luca, pensavo che questa festa è la festa degli sfigati, veramente lo stavo pensando perché alla fine, a parte i puri di cuore, gli operatori di pace, uno può cominciare a pensare all'ONU, a questi che vanno in giro a fare volontariato, misericordiosi, normalmente uno è abbastanza sfigato quando è misericordioso perché poi quando uno si fa pecore il lupo se lo mangia, quindi al di là delle belle parole nella vita di tutti i giorni è quello che noi normalmente pensiamo, ma tutto il resto poi è proprio i poveri, gli spirito, quelli che sono nel pianto, i miti nella stessa linea, quelli che hanno fame e sede della giustizia, ce l'abbiamo tutti i giorni, in tutti i telegiornali, e anche tu perché vai all'ufficio postale, vai alla circoscrizione, vai in un ospedale per una visita, sei proprio perseguitato dalla giustizia perché non riesci quasi mai a fare le cose come vorresti, no? E poi alla perseguitati per la giustizia e poi quell'altro carino che è proprio la fine, no? Perché io ogni volta che lo leggo dico ma beati i perseguitati, beati quando vi insulteranno, quando vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia, rallegratevi ed esultate perché è grande la vostra ricompensa nei cieli. Io penso a me e penso a tante cose che facciamo anche, no? Quello che ci viene spontaneamente dentro. Perché io prendo le parti di un fratello che è perseguitato, che è insultato? Perché odio difendere? Perché difendiamo i nostri figli quando sono perseguitati, insultati e quando mentendo gli dicono un sacco di cose male, di quando fanno il bullismo. Perché? Perché io devo prendere le difese di chi è ingiustamente perseguitato? È beato o no? È beato o no? Nel cuore, nel cuore, il primo motto è quello, no? Nel cuore, quando vedi un fratello in difficoltà, un fratello che ti stanno facendo mobbing, che lo stanno insultando, che ti stanno facendo qualcosa, tuo figlio, tuo marito, tua moglie, tu che fai? Nel cuore viene subito la rabbia, nel cuore viene subito la voglia di farti giustizia, di proteggerlo, eccetera. Perché? Ma questa è tutta una tonteria. Che sta dicendo? Io penso che dovremmo alzarcene e andarcene, perché io non credo che oggi sottoscriveremmo questo. Beati gli sfigati. Beati quelli che gli va male tutto nella vita. Beati quelli che sul posto di lavoro mai, 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 Fantozzi, ecco, beato Fantozzi. È così. Tu pensi che il film di Fantozzi dice la nuvoletta, tutte queste cose che ti possono capitare nella vita, quello è beato o no? E c'è un'ironia terribile su questo. Ci hanno fatto le guerre, ci hanno fatto le rivoluzioni, continuano a fare le rivoluzioni su questo, tutta la politica verte su questo. È vero o no? È vero che, mi dice, speriamo che questa settimana mi perseguitino. Uno salsa, comincia lunedì, diciamo, speriamo di stare in mezzo al traffico, che mi ramponano la macchina e se ne vanno. Anzi, me ne trisciano con una cosa, la macchina nuova. Speriamo che sul lavoro mi freghino tutto. A tuo figlio, beato te, che non t'hanno preso, che devi andare a fare il benzinaio. Ma come? Ma io volevo andare alla Luiz. Niente, niente Luiz. Devi andare a fare il benzinaio, guarda. Beati noi in Italia che non c'è lavoro, la sanità va male. È vero o no? No, perché poi dopo, purtroppo, anche nella Chiesa è tutto il contrario. Cominciando da noi, no? Tutta una ribellione, tutta... Capito? Dobbiamo... In fondo, in fondo perché, fratelli? Vedi, c'è una parolina chiave in questo Vangelo, che per un ebreo subito suona, eh? Subito suona. C'è la parola terra, che è un sinonimo di regno dei cieli. Però terra capiamo di più, perché è la terra promessa. Tu hai una terra, io una terra? Che terra ho io? Perché se io ho la mia vita qui, su questa terra, se le mie radici sono su questa terra, se io sono curvo su questa terra, se io striscio come un serpente sulla terra, non potrò sopportare la minima ingiustizia. Cioè, è contro di me. Il tempo è breve, no? Ogni lasciato è persa. Tutto mi urterà, tutto mi distruggerà. Non siamo... Beato perché... Possiederai la terra. Beato perché sei figlio di Dio. Cioè, sei figlio di questa terra, sei figlio di questo regno. Sei figlio del re di questo regno. Ah, cambia tutto. La parola santo vuol dire separato. La parola santo vuol dire separato. I farisei erano santi, eh? Vuol dire separato. Separato dal mondo. Cioè che vive un'altra vita. Vive la vita di un altro. Non è di questo mondo. Non ha le radici qui. E può vivere in questo mondo senza volerlo cambiare, senza voler cambiare una virgola, senza affannarsi, tutto quello che dirà poi il discorso della montagna, questo è l'incipit del discorso della montagna. E soltanto la... Come dice? È l'ouverture. Poi tutto quanto verterà su queste beatitudini. La fotografia dell'uomo nuovo, la fotografia del cristiano, la fotografia del santo. È tutto il discorso della montagna. Allora, se ti chiedono i soldi, tu non li reclami. Se ti rubano, se ti fanno ingiustizia, se ti chiedono di fare un miglio, tu ne fai due. Tu puoi... Cioè, vivi un'altra cosa. Non sei di questo mondo. Vivi in questo mondo, ma non sei di questo mondo. Vedete che non è niente di morale. Non è che io non pecco, che io non faccio... Non cado. Non è che io sono col collo un po' torto, così parla tutta bassa voce. Sono tutto così. Mi siedo all'ultimo banco. Faccio... No, tutte queste... Non è questo. Se vogliamo, non è nemmeno l'onestà, la probità, la coerenza, la costanza. No, non è nemmeno quello. Quelli sono proprio gli... i corollari dei corollari dei corollari. Cioè, di quelli neanche parliamo. È che è tutto il contrario. Io non vivo qui. Per questo la seconda lettura e la prima lettura parlano del cielo. Per questo parlano delle vesti bianche. Per questo parlano di un popolo nuovo che canta un canto nuovo, che ha altri occhi. Ma la grande notizia di oggi di questa... che ci aiuta a questa festa che parla della nostra elezione, della nostra chiamata, della nostra elezione, è che a essere sottosopra, a essere fuori posto, non è il cristiano, non è il santo. Perché il santo è separato da ciò che è separato da Dio. Cioè, il cristiano vive separato in Dio, messo da parte per Dio. Questo vuol dire essere santo. Vivere la vita di Dio vuol dire che nella Chiesa, a poco a poco, in un cammino di conversione, ascoltando la parola, nutrendomi dei sacramenti, vivendo la comunione con i fratelli, gli scontri, il perdono, la riconciliazione, tutto quello che sia, quello che noi viviamo, la luce della parola che fa vedere quanto di me appartiene alla terra, quanto di me appartiene a questo mondo, quanto queste beatitudini forse ancora oggi mi scandalizzano, quanto sono lontano, quanto ho una mentalità ancora mondana. Bene, in questa carovana, in questo popolo, io a poco a poco, a poco a poco assaforo la terra, assaforo il cielo, comincio ad assaforare una volta forse che quando mi hanno perseguitato mi sono rallegrato. Perché? Perché avevo dentro un amore più grande. Certo che fa male la persecuzione, certo che la fame e i campi della fame fanno male, ma certamente non è che siamo qui masochisti o angioletti, qua abbiamo carne, abbiamo una mente, abbiamo dei sentimenti, non è che siamo qui asessuati, asettici, anaffettivi, non è questo. Ma poco a poco, a poco a poco, a poco a poco, il Signore ci sta separando dal mondo. Perché noi stiamo andando al cielo e siamo stati chiamati a essere capi carovana di tutto il mondo, aprire lì un barco, aprire lì un cammino per tutto il mondo, perché tutti gli altri possano dire ma c'è il cielo, ma com'è possibile che è morto questo figlio e nel dolore questi genitori cantano e benedicano il Signore, com'è possibile avere il sesto figlio sapendo che è down, com'è possibile non fare causa a quello che ti ha rubato tutto, il tuo fratello e lo inviti ancora a pranzo, ma sei un cretino, ancora inviti il tuo fratello che ti ha rubato tutta l'eredità di tuo padre, di tuo nonno. Questo è vivere in un'altra dimensione, vivere il cielo che si dà a noi qui, in questa liturgia, dove tutti siamo entrati da quella porta esattamente come siamo e nessuno ci ha chiesto nessun biglietto da visita, un certificato di buona condotta, né di salute mentale o spirituale. Siamo entrati con tutte le nostre sozzure e arriva di nuovo il sangue di Cristo che lava tutti i tuoi peccati, che lava tutte le nostre colpe, ci riveste con questa veste bianca, ci fa bellissimi, stupendi, della stessa gloria, la gloria, la presenza, la shekinah, il peso specifico di Cristo. Tu sei Cristo, questo vuol dire essere cristiano, questo vuol dire essere santo, che tu vivi la vita di Cristo, non la tua vita. La vita che, cioè, Cristo ti ha talmente preso, sedotto, ti ha portato con Lui e tu entri in ogni fatto della tua vita, entri in ogni situazione con Cristo, per cui soffri ma non nevrotizzi, soffri che l'altro non ti capisce, soffri che tua moglie non riesce a capire nulla di quello che tu stai vivendo, tu soffri perché il tuo marito ma proprio, cioè, passa in alto a tutti i tuoi problemi, non capisce nulla, tu soffri della tua malattia, soffri perché c'hai le gambe che si stanno confiando, perché c'hai non so che, perché c'hai 85 anni, 87, 88, 89, 90, perché a 90 anni già io non posso fare più i 100 metri, di corsa, ti stupisci pure perché a 90 anni hai un minimo d'acciacco, perché non vedi bene, prima non vedevo bene, prima mangiavo con i miei denti, prima, 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 ma queste cose che sono naturali su questa terra dove c'è il peccato e la corruzione, a noi non ci distruggono, a noi non ci mettono il collo schiacciato, lo vedi? Benissimo, questo vuol dire purezza di cuore, eh? Beati i puri di cuore, non è soltanto beati i puri di cuore quelli che a ogni femmina che vedono non gli fanno le lastre e non la vedono, capito, in 3D, no, non è soltanto quello, è molto più profondo, il puro di cuore è quello che in ogni evento vede il Dio, ha il suo occhio purificato dalla menzogna del demonio, è come, se vedete, il cieco che viene e gli toglie, gli mettono il il fango, poi gli dice di lavare, vedo, è la prima persona che vede è Cristo, per cui un pulo di cuore è quello che vede Cristo in tutto, che dietro a ogni evento, anche dietro a un cancro, guarda che, ah lo ha permesso, no, non lo ha permesso, c'è, perché c'è il peccato, perché la, perché questo mondo è ferito dal peccato, è entrato con il demonio, è entrato alla morte e c'è, non è che l'ha permesso o non l'ha permesso, ma Cristo sta dentro a quel cancro, Cristo sta dentro quando ti ha licenziato il capo ingiustamente, Cristo sta dentro con tuo figlio che se ne è andato con non so chi e ti ha vomitato e non ti vuole più e non capisce più niente e non ti ascolta, Cristo sta dentro a quell'evento, questo vuol dire avere occhi puri, vedi Dio, ma se vedi Dio puoi soffrire per tuo figlio, puoi soffrire perché ma c'è Cristo, c'è Cristo, Cristo parlerà al cuore di mio figlio, no, perché mio figlio, il mondo, il mio figlio deve fare quello che dico io, mio figlio non mi deve far soffrire in definitiva, io lo vedo soffrire, viscere di mamma, ma che viscere di mamma, ma che viscere di madre, non ci abbiamo fede, non vediamo Cristo, per questo soffriamo perché, perché le cose non vanno secondo, perché mi scomoda, perché il peccato dell'altro mi scomoda, la libertà dell'altro mi scomoda, ma Dio ci ha chiamato a vivere un'altra vita, beati voi, quando vi perseguiteranno, quando vi insulteranno, beati, capito, esultano, sai perché, perché uno deve esultare, perché un santo esulta, quando lo insultano per causa mia, cioè per essere cristiano, per vivere un'altra vita, perché, perché ti stanno dicendo quello che sei, ma come, mi stai dicendo che sono un pazzo, mi stai dicendo che sono un tonto, mi stai dicendo che sono come mettevano la faccia di asino su Cristo, ma beato te, beato te, ti stai dicendo che sei cristiano, sei un cretino, certo, guarda, più cretino di Cristo sulla croce, ma sei un deficiente, non hai capito nulla, sì, è vero, ma non ti ribelli, ma come, non divorzi, non mandi a calci nel sedere quel porco di tuo marito che continua sempre tutte le sere là che si deve saziare con tutto quello che c'hai, no, ma come, mi sei andato e c'ha un amante e tu ancora si approfitta dei tuoi soldi e tu ancora, questo è l'insultare, questa è la persecuzione, forse dei parenti, forse dei colleghi di lavoro, non è che ti prendi l'ultimo posto, mi stai dicendo ma io sono contento, ma tu mi stai dicendo guarda, sei cristiano, sei Cristo, diceva, i discepoli vanno via dal sinerio contenti perché erano stati insultati, perché gli avevano detto, ti stanno dicendo ma stai attaccato a lui, grazie che mi stai dicendo qual è la mia vita, capito, grazie, grazie che non sto nel mondo, grazie che non penso come te, grazie che mi stai dicendo che non sto dannando la mia anima, grazie, e questo per me, e questo per i miei figli, e per i figli dei miei figli, ecco cos'è la mia attitudine, essere amati infinitamente, tutti noi abbiamo questa terra, fratelli, che è il cielo, la terra promessa, Gerusalemme, tutto immagine del cielo, vero? certo, ma se tu vivi già oggi nel cielo, e stai puntando al cielo, e vedi in tutto Dio, e vedi in tutto il riverbero del cielo, questo vuol dire che tu, tu, io, questa comunità, è un pezzo di cielo sulla terra, e non soltanto nella liturgia, che ci serve per ricordarcelo, per fare memoriale, è come ogni liturgia, è una trasfigurazione, saliamo al Tabor, respiriamo come suoi Dolomiti, capito, bellissima, l'aria stupenda, meravigliosa, ma poi dobbiamo tornare nello smog di Roma, dobbiamo tornare in mezzo al traffico, questa è la nostra vita, fino a che l'ultimo giorno, dai Dolomiti, non ci scendiamo più, fino a che dal Tabor, saremo presi e portati in cielo, questa è la nostra vita, questa è la felicità, non c'è vita, non c'è altra vita, tutto il resto è inutile, desiderare altre cose, è desiderare morte, è desiderare dannazione, è desiderare corruzione, non c'è una persona, che abbia resistito al male, che è felice, non c'è un rivoluzionario, che sia morto felice nel suo letto, non ce n'è uno, non ce n'è uno, i martiri sono morti, cantando, e questo è quello a cui il Signore, non solo ci sta chiamando, che è tanto bello dirlo, ma ci sta portando, ci sta educando, ci sta conducendo, ci sta formando, ci sta nutriendo, per essere felici, e felice è soltanto chi ha toccato il cielo, noi oggi stavamo da Nina, noi abbiamo cantato, vieni da Libano, mi ha aiutato tanto, mi ha aiutato tantissimo, perché cercai l'amore dell'anima mia, l'ho cercato, e non l'ho trovato, trovai l'amore dell'anima mia, l'ho abbracciato, e non lo lascerò mai, questa è la vita eterna, non lasciare mai a Cristo, vivere con Lui, perché Lui ti ha trovato, ti ha pulito, ti ha lavato, ti ha amato, ti ha perdonato, oggi, in questo istante, così come sei, chi ha incontrato Cristo, non lo lascia mai, questo è un santo, questo è un santo, questo sei tu, questi sono i cristiani, questi sono i fratelli della nostra comunità, che sono una luce, per tutto il mondo, perché l'amato c'è, perché Dio esiste, e perché ha dato la vita per tutti noi, e il mondo lo può conoscere soltanto vedendo pazzi, sfigati, che vivono felici, capito, umiliati, bullizzati, insultati, perché sono felici, capito, come diceva Totò, quando quella barzelletta, incontra uno, dice, ma quello ha dato un'apprezzamento ammazzato, Pasquale, che disgraziato, e tu, no, non hai fatto niente, no, e poi, ha continuato, ma tu, Pasquale, disgraziato, un altro pezzo, ma tu ti sei ribellato, no, alla quarta, alla quinta, alla sesta, ma perché non ti sei ribellato, e che so, Pasquale, gli diceva, no, e Totò, è molto profonda, perché è vero, ma tu sei Pasquale, tu, ma tu sei Cristo, non arrivano a te, arrivano a Cristo, che già li ha infrante sulla croce, eh, e poi tante volte ce le meritiamo, cioè viviamo un'altra dimensione, a questo, fratelli, siamo chiamati, e questo oggi, in questa Eucaristia, in queste nozze, che si compiono adesso, in questa nuova ed eterna alleanza, ci viene dato tutto, ci viene data la terra, ci viene dato il regno, ci viene dato la figliolanza, la natura, il Signore ci adotta con lui, a figli di Dio, tutto adesso, gratuitamente, Amen, è vero, Signore, io non sono nulla, fai tutto tu, e questo Signore lo compie oggi.